Un villaggio sportivo con 20 associazioni del territorio pronte a far provare le discipline a giovani e meno giovani. Si è aperta, alla presenza anche della ministra Daniela Santanchè e dei vertici regionali del CONI, la prima edizione di Pietrasanta e Sport, l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Pietrasanta in collaborazione con la Consulda dello Sport. Iniziano le due giornate importantissime qui in piazza 24 maggio, via Donizetti, piazzetta Madei, tutto il litorale della Marina di Pietrasanta, di Tonfano in particolare, vedrà due giornate bellissime all'insegna dello sport, all'insegno dell'amicizia, all'insegno dei ragazzi, dei giovani, di coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Un qualcosa di importante che ci ritroviamo nella quotidianità perché si impara il rispetto, si impara a stare insieme, si impara il lavoro di squadra. Arti marziali, ginnastica artistica, equitazione, pallavolo sono solo alcune delle discipline presenti negli stand allestiti in piazza 24 maggio e nell'area del Pontile. Un modo per permettere ai ragazzi di poter testare le varie discipline concentrate in un unico spazio, fluibile a tutti. Promozione dello sport, promozione dello sport a 360 gradi naturalmente per i nostri figli, per le future generazioni, ma non soltanto, direi anche per le persone un pochino più grandi. Noi siamo per lo sport strutturato ma anche per il cosiddetto sport destrutturato. Dobbiamo cercare di aumentare le persone che praticano attività motoria soprattutto ai fini della salute, perché fare sport significa stare molto meglio in salute e risparmiare anche per quanto riguarda la sanità pubblica.